Sulla sua pigna c'è scritto, c'è scritto, aia, 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 mi fate male, aia, abbiamo un microfono? Calma, calma, io sto con le mani alzate, guardate, aia, aia, io sto con le mani alzate, ho sbattuto la testa qua, eccole qua, le mani alzate, forza, ministro, guardate come stanno trattando una persona armata solo di un microfono, lasciami stare, oi, Aia, 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 mi ha dato un pugno in testa, Ma cosa volete? Sto facendo il mio lavoro!